Il G7 è ormai alle spalle. La Puglia, ma sì, diciamolo senza paura di essere tacciati di campanilismo, Brindisi e Provincia sono stati al centro del mondo con il summit dei Sette Re Grandi della Terra. Borgo e Ignazia era e resterà uno straordinario resort di Savelletti di Fasano. La vita è tornata alla normalità tra il capoluogo e la città della selva, il continuo ronzio degli elicotteri, il viavai di mezzi delle forze dell'ordine, la fitta rete e i posti di controllo sono già un ricordo. Come all'album della memoria è stato consegnato il momento dell'atterraggio dell'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Eventi che chissà se un giorno potranno ripetersi. Questo per quanto concerne il campo delle emozioni e delle sensazioni. Cosa resta invece a Brindisi dopo la straordinaria settimana del G7 e la cena di gala? Resta un castello svevo tirato a lucido che qualcuno vorrebbe più fruibile, vedi richiesta dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e ancora. Restano anche i parcheggi della zona acqua e chiare a due passi dall'aeroporto del Salento ma anche a due passi dai diversi lidi del litorale nord che potranno continuare a essere utilizzati da chi appunto si reca al mare e non solo. E poi, fatto da non sottovalutare perché causa principale di ogni lamentela da parte dei residenti di ogni città che si rispetti, le strade percorribili finalmente senza imprecazioni da parte di automobilisti grazie al rifacimento dell'asfalto nei presti del Castello Svevo e non solo. Insomma, il G7 2024 è stato consegnato allo Storia e chissà se i posti ricapiranno mai l'esultanza dei residenti alla vista dei grandi della terra ma anche per un po' di asfalto nuovo sul manto stradale.